Le crociate. Un lungo e complesso conflitto. Le crociate furono una serie di spedizioni militari, religiose e politiche promosse dalla Chiesa Cattolica Romana tra l'XI e il XIII secolo. Il loro obiettivo dichiarato era quello di riconquistare la Terra Santa, in particolare Gerusalemme, dai musulmani. Le crociate furono un evento di grande importanza nella storia medievale, con un profondo impatto sulla società, la cultura e la politica dell'Europa e del Vicino Oriente. Cause delle crociate. Le cause delle crociate sono complesse e molteplici. Tra le principali si possono annoverare, l'espansione dell'Islam nel Mediterraneo. Nel corso dell'XI secolo, l'impero islamico si era espanso in Europa, conquistando la Spagna e la Sicilia. Questo portò a un aumento delle tensioni tra cristiani e musulmani. La volontà della Chiesa Cattolica di rafforzare il proprio potere. Le crociate furono utilizzate dalla Chiesa per rafforzare il proprio potere e influenza sul mondo cristiano. L'ideale della crociata. La crociata era vista come un'impresa religiosa. Un'opportunità per i cristiani di purificarsi dei propri peccati e guadagnarsi la salvezza eterna. Le crociate. Le crociate furono divise in otto grandi campagne, ciascuna con obiettivi e risultati diversi. La prima crociata, 1096-1099, fu la più importante e fruttuosa. I crociati, guidati da Goffredo di Buglione, riuscirono a conquistare Gerusalemme nel 1099 e a fondare i regni di Gerusalemme, ed essa i tripoli. La seconda crociata, 1147-1149, fu un fallimento. I crociati, guidati da Luigi VII di Francia e Federico Barbarossa, furono sconfitti dai musulmani. La terza crociata, 1189-1192, fu guidata da Federico Barbarossa, Riccardo Curdi Leone e Filippo Augusto di Francia. I crociati riuscirono a riconquistare Gerusalemme per un breve periodo, ma furono poi costretti a ritirarsi. La quarta crociata, 1202-1204, fu un evento disastroso. I crociati, inizialmente diretti in Terra Santa, furono dirottati su Costantinopoli, dove saccheggiarono e distrussero la città. La quinta crociata, 1217-1221, fu guidata da Luigi IX di Francia. I crociati riuscirono a conquistare Damietta, in Egitto, ma furono poi costretti a ritirarsi. La sesta crociata, 1228-1229, fu guidata da Federico II di Svevia. Federico II riuscì a negoziare un accordo con il sultano d'Egitto che consentì ai cristiani di mantenere il controllo di Gerusalemme per dieci anni. La settima crociata, 1248-1254, fu guidata da Luigi IX di Francia. I crociati furono sconfitti dai musulmani a Mansura, in Egitto. L'ottava crociata, 1270, fu guidata da Luigi IX di Francia. I crociati furono sconfitti dai musulmani a Tunisi. Le conseguenze delle crociate. Le crociate ebbero un profondo impatto sulla storia dell'Europa e del Vicino Oriente. Tra le principali conseguenze si possono annoverare l'espansione del commercio e dei viaggi. Le crociate riaprirono il Mediterraneo al commercio e ai viaggi, favorendo lo sviluppo economico e culturale dell'Europa. Il rafforzamento del papato. Le crociate rafforzarono il potere del papato, che si presentò come il leader spirituale e politico della cristianità.La diffusione dell'ideale della crociata. L'ideale della crociata fu utilizzato in seguito per giustificare altre guerre, come le guerre di religione del XVI e XVII secolo. Conclusione. Le crociate furono un evento complesso e controverso, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Europa e del Vicino Oriente.